sono andato a fare spesa regà spesa pure ragazzi è sduzzata abbiamo appena aperto il portavagagli ma qua la coca cola è caduta tutta quindi siamo restati soltanto con diciamo o una o una e mezza eccoci qua ragazzi benvenuti in questo nuovo video ciao ragazzi oggi faremo la challenge io e per luigi il mcdonald abbiamo preso 20 panini da un euro per questa challenge abbiamo scelto questi panini e ho tolto diciamo le zucchine e la cipolla perché non mi piacciono quindi l'ho tolto anche lui per fare la stessa cosa c'è solo l'hamburger e il ketchup ok quindi adesso prenderemo 20 panini a testa questo è il panino extra che ci hanno regalato insomma e chi mangerà quello alla fine il primo che lo mangerà allora ho visto un po in giro questa challenge non la finiscono molti tipo giorni fai sono già i 13 quindi muoveremo 3 2 1 1 ho gomma sono schifo boh a chi sbrazza verde è tipo capo capo tecnici se volete qualcosa di figo dito figo tipo che esso è la figo se vuole si volete o meglio no non è che quei panini da gomma piccoli tipo caramelle picchieri e toraiati biscotti di torai monedì Sponsoritorio dal Mcdonald Terzo Questi panini hanno 250 calorie l'uno Quindi siamo in un totale di 10.000 calorie Quindi 5.000 a testa Possiamo puntare su qualcuno? Io punto su Giorgio Io pure l'è alta Io punto su Giorgio Io punto su Giorgio Io punto su Giorgio Vai se io pure punto su Giorgio Perché hai l'unico Vai Giorgio Vai Giorgio Vai Giorgio E' bello per lui il panino? E' bello sta Quanto sono i pieni raga? Facciamo 40 40 al 100 Già Tu quando stai Ma che è in anni tu? Aspetta Oggi ho visto prima di fare la cioccolata in G1 Che ne ha tornati 40-20 a testa Ne hanno mangiato 5 Una e stai l'altra Ogni challenge ha un deficit Questa ha su De Gomma Quell'altra non ha due Ti capisci un gatto Tu lo sai che perdi oggi Giorgio? Lo sai? Lo sai no? Lo so E' plastica Pannaggia la madonna C'è un zazzicchio Che merda Che merda Che stai Giorgio? Questa è Giorgio? 15% 15% 15% 50% Ieri ho capito 100% Ieri ho capito 90% Non capito un cazzo Quindi C'hai già qualche idea per la prossima challenge? Un dolce farei Tipo? Tu chiedi la misura Che chiedi la misura Che chiedi la misura Se già avete le palle E mangiate 5 ciambelloni a testa E fateli da mia madre Ci potete pensare Ah per Filippo No No Tempo 18.20 18.20 Ammi Giorgio la tocca a sbrattare in live Sbrattere cominci Sbratta dentro anch'io O te ce lo sbratti Forse oddio te Sono stato a mangiaggio La cosa che ho fritto Mi faccio sbrattare altra cosa Beh Qualsiasi cosa Prendo pure questa Se ce ne inviamo troppo Te viene Vediamo dai No ti viene a te Vieni Questo Mi mancano 8 8 Non è buono Ma 26 e 15 Se tu hai meglio l'acqua o la gorgola? Tu hai lasciato Fai di più meglio l'acqua Se non si vede niente Ormai sono freddissimi eh Quindi stiamo mangiando A forza Per lui è già cotto Finito Ambientato Conflitto dal pane e dalla carne 21 32 Quasi Facciamo un 60% Quanti rimangono? Quanti rimangono? 6 e mezzo 6 e mezzo 7 e mezzo 7 e mezzo E' tosta eh Poi ci sono quanti più Panna macello Dolce Panna gotta Panna gotta Panna gotta è buono Togliamo la nuova tecnica Davide Mangi solo l'hamburger E poi mangi il pane Magari pure se non li finiamo Però poi facciamo Proviamo a fare un record A battere italiani I italiani Perché gli americani Troppo difficile Comunque Top hamburger Pausa batteria scarica Adesso riprendiamo Ci riprendi dai eh Stai? Ma si Sono un po' rallentato perché è freddo Lo so Penso sarebbe il più buono la carta di sto panino eh E' freddo è giurato La prossima sfida Sotto le feste di Natale Panettoni 5 kg di panettoni Pandoro pure Torroni Torroni E' pure di testa sta sfida Tipo a tutto di testa E' abbastanza tosta lo ti ammetti Scende 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 All'inizio contava Ma dopo i 10-15 minuti Non proprio scendeva la pizza Non proprio scendeva No no Cala cala Oh oggi sei che ammalato Stavo Stanno i bufali Io sto a 14 Stai 15 penso 13 La sfida del Mac era d'obbligo La prossima di dolce dai Quanti like dai arriva però per fare una dolce? 12.000 15.000 15.000 Perchè Perchè Facciamo 3.000 3.000 3.000 3.000 Quasi poco? 3.000 Ci accontentiamo Vabbè Meditazione Mi serve un pozzoletto Mi serve un pozzoletto Però va tutto qui La busta Per vomitare dentro Si si Tornano pure i buchi Quindi con l'ampalla La fine Quanti le manco? 2 2 Si Alla zamba 5.000 Già ci mancano 3 Per chi che sbratta per te Non senti male Vai Già a che percento prestai? 90% Perfì Comunque lo sapevi che Mangiare il Mac Potrebbe cosa Causa imputenza Non c'hai paura Non c'hai paura Non c'hai paura Non c'hai paura Per causa dei panini del Mcdonald Che c'è l'amp Ma che c'è Perfetto Perché è freddo È freddo È freddo Ma gettato Non c'hai da mangiare Tosca Faccio una bozzetta, posso? Che cosa fare? Mangiati insieme No, ma sei pazzo Non c'hai altro C'è la cosa stuzia invece Luce ha molti più panini di me Ha fritto per i copronati Non si li vedo fresco Molto Calentato Lo studio Dai di nuovo C'è anche per finire questo Per dirti Smetti Ma questo no Comunque a parte scherzi 3.000 like Ci sta Non ho fatto neanche 3.000 visual Quindi Vabbè questo video è importante Che secondo noi è importante Non si sa mai eh È vero Tutto può essere Una collaborazione con i Giovanni Foyce Mangi con una centinaia di panini Abbiamo passato ufficialmente l'ora di tempo Cioè siamo quasi a 4.000 calorie 4.000 Veramente Veramente Che si roba Che la pizza Che la pizza Che la pizza Ti sta a pregare qui Che sta a scherzo Che fai Che tortura Tu Sto da uno o meno Non è più che un proprio scende eh Non sono buoni a fare niente Dai concediamoci a questa challenge Dai È meglio Ci conviene Se voli mo finì Sta tutto bene Come se avessi iniziato mo' Aia Tu? 98 Possiamo rimandare una qua Ti vuoi arrendere? Chi sei arrendere qua? Tu preferiresti arrenderti O vomitare? Da quelle tue? Eh Se proprio... Eh... Arrendermi Stavo te scende Non vuoi Con la mia postazione Non so Non so Non so Non so Ehm Oggh Uggh Uggh Ehm Un termopetro Ugghh Sono curioso di far venire l'assaggiastico se era qui Il New York Ehm Ai Eddai da prima monse Qua stile a pari Era tranquillo Era tranquillo Era Icosci Come stai a me Quanti già metti befo qua? Noi 3 o no? 3 cellule? Beh, state uno pari! Vabbè, stanno i singhiozzi! Oh vecchio, è partito da io! E lui, ora rendi... Mo scopri la nuova tecnica dei G-Jong! Li lasci dentro per favore! Sì, per essere così... Per lui, per essere così... Si fa la pila, sì! G-Jong, ammazza! Vai G-Jong! Ma per lui, hai detto che c'è tutta questa tecnica nuova! Mo vedi che fa, c'è che fa! Sei dato uno mozzi che sei finito! Guarda che mi chiedo a sta cosa! G-Jong, ammazza! G-Jong, ammazza! G-Jong, ammazza! G-Jong, ammazza! Che fai? Dori ha provato che c'è stato un zero per petrari Ooooooh Gia è piaciuta l'anno Anche lui era stato più Una cosa più graduale Ha partito Porca madonna Faccia cumbia e te Oh Destroggio Giugia buona dai ma vedi come stai Che dito Dalle espressioni d'Italia sembra che il primo cuore che non si mangia Ti stafrisco Giugia buona si trasforma il gigante colossale Ma ti stafrisco Ma che è il Giantecarlo Ma eh chi sei l'immagine Tipo lì qua Giugia sta a combattere i suoi demoni Pazzecato Stavano in secca tutti Giugia io ti consiglio di arrenderti Sì perchè è molto male E' tutta l'uscia un quadretto E' una zirata 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 Che momento di tensione No Giugia come qua No Giugia Ti prego no Non ti fa male Sono le 23.42 Mezzanotte finimmo Scusi 23.42 Eh sono due che si deve fare Ma adesso si finisce Alle 10 avete cominciato Non contano i mezzi di cose No sta dicono devi finire perché contano le 19 Eh l'abbiamo detto prima Ah si È finito Non si sonne Non sto con le di ammigione 46 Ancora a Giorgio Ah Giugia stai Il passato Il presente e il futuro Giamadoni Scusate signore di Twitch Giustamente Stai spazzito Stai spazzito Sentele voi Oddio Che minuti Che minuti hai? Dicci che mando a te Dicci che mando a te Capitino Due minuti Contame Mancano 20 secondi 15 secondi No non mancola 16, 20 secondi Oh facciamo il countdown da 10 Eccola Vieni Eccola Eccola Porco te già è sbrattato Eccola Eccola Poi la busta sta l'occhio Porca madonna Credi che a mezzanotte è scorcare la nonna di alta Sto spazzito Non è vero 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 Porco Dio Ma ci stavamo la tira Non è vero 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 Ragazzi questa challenge è finita Come avete visto ho vinto questa volta Quanti voglio 19 finiti Ho fatto 19 panini Eppure tu Io vabbè calcolo 18 e mezzo Questa è la terza challenge che facciamo Sì E quindi scrivete nei commenti La prossima La prossima challenge che preferite Noi siamo divertiti anche se è stata molto dura Questa sfida All'ultimo cerca di dare il meglio Però niente da fare Cioè secondo te questa è stata più difficile o quale? Per il punto di vista questa era più tocca Pure di testa Perché io stavo pieno a 14 panini Pure 13 Però fino a 19 Perché dopo i panini sono pure riflettati Quindi è per questo Capito? Quando abbiamo portato i panini erano già freddi Quindi è stata molto difficile per questo E insomma Ma che dici sto video? Meno 1000 like? Meno 3000 like Vabbè Ci accontentiamo pure dei 500 Dei due tre like Mi salutiamo Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale se vi è piaciuta Che hai trovato difficile in questa challenge? Allora all'inizio tutto quanto Appena ho visto che panini sopra il tavolino Già me l'ho spaventato Infatti dalla miniatura Vedranno insomma che Erano tanti Secondo me il bello di queste challenge Poco mentalmente ci devo dire All'ultimo calcolo Ho fatto l'ultimo sprint Almeno ho cercato di fare un sprint Per recuperare tante Se vedete insomma che Se io mi fermavo a 18 Non sbrattavo Sono sicuro Ho cominciato a bevare tutta l'acqua Però Dai niente Ragazzi Per questo video è tutto E ci vediamo alla prossima Alla prossima Bella